Comunità di paesaggio, paesaggi di comunità, riannodare i fili. E' stato questo il tema al centro del secondo appuntamento del percorso partecipato Futura Caprarica, che si è svolto nella Sala Verri a Caprarica di Lecce alla presenza di diversi esperti di olivicoltura, ecologia e paesaggistica. Tanti cittadini che hanno voluto essere presenti a questo nuovo importante momento di confronto sul progetto Futura Caprarica, che coinvolgendo piccoli proprietari terrieri, agricoltori Ubbisti e tutta la comunità ha come obiettivo la costruzione partecipata di un piano per il futuro delle aree colpite dalla Xylella e il loro riutilizzo, rigenerazione e valorizzazione. E' un processo di partecipazione che è iniziato coinvolgendo le associazioni agricole, principalmente per avere da loro delle indicazioni circa il futuro agricolo possibile di questo territorio e adesso insieme con i cittadini affronteremo le problematiche, le difficoltà ma soprattutto le possibili soluzioni, in modo tale da presentarle a quelli che sono i decisori comunali e sovracomunali per far sì che queste difficoltà possano essere superate e soprattutto far sì che questo territorio possa avere effettivamente un futuro agricolo in maniera concreta, in maniera realistica e non soltanto raccontandoci ciò che è stato. Che reazione sta venendo da parte dei cittadini anche dopo il primo momento e dal 29 ottobre? Dal primo momento c'è stato un interesse, dal primo momento abbiamo avuto una loro partecipazione, contiamo di partire innanzitutto con delle risposte concrete e far sì che questa cosa possa man mano avere un maggior successo proprio perché si riescono ad avere dei riscontri fattivi.